Mi sono data al wrestling come ultima spiaggia. C'è un limite ai colpi da incassare prima di arrabbiarsi. Se ho dei rimpianti, io voglio essere più di quanto sono. Il wrestling mi ha salvato. Ho trovato un modo per incanalare la rabbia. Il wrestling è una forma d'arte. Riguarda la vita vera, il dolore, il trauma. Bisogna essere un po' folli per vivere in questo mondo e provare ad avere successo.